UbiBank archive primi nove mesi dell'anno con un utile pari a 260,6 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato degli ultimi dieci anni, anche l'utile del terzo semestre è sceso ad 1,6 milioni e comunque sopra le attese degli operatori. Il responsabile della macroarea territoriale Lazio, Toscana ed Umbria, Silvano Mannella, ha commentato così la relazione, il trend di crescita del nostro istituto nei territori della macroarea è proseguito anche nel terzo trimestre dell'anno, andando così a posizionare UbiBank come istituto di riferimento in molte piazze che serviamo. Abbiamo lavorato lacrimente e prosegue con gli oltre 1.876 dipendenti della macroarea per sostenere l'imprenditoria e le famiglie di queste regioni, con risultati rilevanti nel periodo. In Toscana, Umbria e Lazio abbiamo infatti complessivamente erogato finanziamenti per oltre 700 milioni di euro, con una crescita doppia cifra. Importante anche il supporto offerto in queste aree ai vari distretti produttivi, tra cui si segnala il distretto orafo di Arezzo, con un trend positivo soprattutto sui prodotti a breve termine. Importanti gli sforzi, conclude Mannella, che la banca ha continuato a fare anche a favore degli anti-no profit, come testimoniato anche dal lancio del primo social bond in Toscana, da 5 milioni 475 mila euro a favore del calcite di Arezzo.